Ciao ragazzi, sono sempre Eurozone Copacabana, sono qua in queste spettacolari feste e qua che ho trovato? Mary Volami, la presentatrice di questa serata? Allora, Mary Volami, dimmi qualcosa di questa serata, che cosa pensi, che succederà in questa sera? Siamo prontissime per questa serata, sono pronti nostri amici e ovviamente cerchiamo sempre di raccogliere fondi affinché ci sia un vino completo, quindi miracolo ragazzi, donate, donate, miracolo quest'anno c'è una festa importantissima, ma soprattutto ci siamo pronti a dormire, la roma, non mi anzi Allora, tec, vi ringrazio per queste due paroline, un massaggio di pagina per questi ragazzi di tutto il mondo una richiesta, quello che io faccio totalmente in stagio Allora, la richiesta è ragazzi, voglio andare con il cuore, non ne parlate, agire, perché agire vale l'oppia Quindi mi raccomando, non parlate, ma di questo, perché la verità si fa anche lo stesso Ciao, un bacio a tutti, Rosanna Copacabona, dopo ci viviamo, ciao 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 ciao